oggi preparo la torta di mele noce bio dei miei alberi e poi metterò anche la farina vaccinata pietra yogurt e latte d'avena dato che fuori c'è una pioggia e io a questo punto non credo uscirò più mi dedico a questa mia ricetta che poi la torta di mele la mia preferita ciao Ho preso le noci che hanno ancora il buscio, le ho raccolte e poi le essicai al sole. Poi metto anche questo, il gran violino, così, e accendo il forno, così riscaldo anche un po' l'ambiente, perché qui è tutto al minimo, il riscaldamento, e occorre anche vestirsi bene, infatti. Ecco, messo il gran violino, e poi accendo il forno, così sfrutto anche il calore del forno per riscaldare un po' l'ambiente, che qua è proprio freschino, c'è riscaldamento al minimo, e adesso fa così. Passerà anche quest'inverno, intanto cerchiamo di impiegare il tempo in maniera ottimale. Ma no, finita la farina di semolino, ce n'è pochissima, ma come farò adesso a fare la torta, che ce n'è poca. Non volevo più uscire, ma adesso sarò costretta ad uscire per comprare la farina, perché è poca e non mi basterà. Beh, non so come farò a mettermi tutti quegli abiti, perché fa un freddo. Adesso, adesso mi vestirò. Adesso, adesso mi vestirò.